Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. È la strecata di questi mattoni, la strada che conduce al cielo, un cammino che ciascuno di noi ha iniziato entrando nella grande famiglia di Dio e che deve rinnovare ogni giorno, rifiutando le tentazioni. Papa Francesco, durante l'Omelia della Messa celebrata a Santa Marta, ha spiegato che l'identità cristiana rifulge attraverso i secoli, un sigillo impresso con il battesimo e che in qualche modo è la caparra della nostra eredità. Proprio per questo è importante rendersi conto della bellezza del dono ricevuto dal Signore, senza renderlo opaco, con atteggiamenti ipocriti o non coerenti. È il cristiano a tepido. È cristiano, sì, va messa le domeniche, sì. Ma nella sua vita l'identità non si vede. Anche vive come un pagano, può vivere come un pagano, ma è cristiano. Essere tepido. rendere opaca la nostra identità. E l'altro peccato è quello che Gesù, nel quale Gesù parlava ai discepoli, abbiamo sentito. guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Fare finta di... Io faccio finta di essere cristiano, ma non sono trasparente. dico una cosa, sì, sì, sono cristiano, ma faccio un'altra, che non è cristiana. Grazie. Grazie. Grazie a tutti